Personalmente io per il momento non intendo vaccinare perché ancora ci sono tanti lati che non mi sono chiari, non mi sono stati chiariti e quindi vorrei anche capire quali sono i pro e i contro che purtroppo spesso vengono un po' celati dall'informazione. Sono 60 le famiglie che fanno parte del Comitato Libera Scelta del Casentino. Alcuni hanno scelto di non vaccinare i propri figli, altri di eseguire solo alcune vaccinazioni. A due mesi dall'entrata in vigore della legge 119 in tema di prevenzione vaccinale il dibattito è ancora molto caldo. In Toscana, grazie ad un accordo tra Anci, Asle e Ufficio Scolastico, i bambini che non sono in regola con i vaccini possono comunque frequentare. Sarà la Asle a convocare le famiglie per la regolarizzazione. Il Comitato Casentinese però ritiene che su questo delicato tema non ci sia sufficiente informazione e per questo è stato organizzato un incontro aperto a tutta la cittadinanza. Promuoviamo questo evento che avverrà venerdì 17 a Bibiena, al Cinema Sole, alle 20.30. Ecco, chi saranno i relatori? Ci sarà il dottor Miedico, medico legale ed epidemiologo che spiegherà un po' la legge, si addentrerà nel merito della legge e spiegherà anche quello che è la buona scuola che ha deciso di adottare un comportamento di esclusione verso chi non rispetta le regole senza accettare i dubbi che un genitore ha tutto il diritto di avere. Sono state invitate anche tutte le istituzioni del Casentino, dai sindaci alle scuole, all'Asle che è invitata anche a intervenire. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare, a portare le loro domande e i loro dubbi ai quali il dottor Miedico proverà a rispondere. E questa qui sarà una parte molto importante della serata perché dalle domande e dai dubbi si può arrivare ad un dialogo costruttivo con tutta la popolazione. Grazie a tutti.